L'ultimazione è stato il tiro di Tave, ha avuto 8 secondi della fine, ho 10 forse, poi la palla sta finendo fuori, mi ha ridato la palla a Tommy, visto che siamo neppiati, poi c'è uno contro uno, quello che è forse più uno contro uno di noi, lui è stato bravo a non forzare la situazione, a trovarmi libero e poi c'è stato il tiro al canestro. Sono sicuramente un momento bello, positivo, poi vabbè, io il canestro dell'anno di Tavernelli non me lo sono perso, però l'importante è che abbia segnato e fine, che tipo di stagione è? Non lo so, non lo so ancora, è presto da dire, sicuramente adesso è un momento positivo e cerchiamo di sfruttarlo più che possiamo, lavorando e facendo le cose come vanno fa. È sicuramente un campo difficile perché i loro corroni in casa stanno giocando bene, poi hanno fatto anche un paio di colpi intersegretti importanti, noi fuori non stiamo ancora esprimendo forse quello che stiamo facendo di buono in casa, ci piacerà perdere là e sicuramente avrà un approccio diverso rispetto alle ultime due trasferte, poi sono finite bene, però sicuramente non potremo sempre riacciuffare le partite in questo modo. Assolutamente sono felice di essere campione di questo gruppo, per ora è molto facile, non è un compito gravoso e tutti seguono le istruzioni che devono seguire, tutti fanno quello che va fatto per il bene della squadra, quindi questo è sempre lì, sicuramente il mio voto, poi io quando si inizia così, non sono soddisfazione, ma non è per il fatto che sono io capitano, nonostante sia, siamo felici di esserlo, ma è una cosa di squadra, di gruppo, quindi è bene così. Ciao! 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 Ciao!